Iniziativa eclatante dei commercianti di Montorio che resteranno chiusi per un'intera giornata per protestare contro la decisione del Comune di non riportare il tradizionale mercato in centro storico. Una consuetudine alla quale esercenti e cittadini montoriesi non vogliono più rinunciare. Dopo il terremoto, infatti, il mercato era stato trasferito in periferia. Si trattava di una situazione momentanea, ma ora i commercianti temano che possa diventare definitiva. Commercianti sul piede di guerra, ma cosa sta succedendo a Montorio? A Montorio c'è un malcontento da parte non solo dei commercianti, ma anche dei cittadini. A causa di un mercato che ormai abbiamo dimenticato nel centro storico, ma è stato momentaneamente, dopo il sisma del 24 agosto del 2016, posizionato, ubicato in un parcheggio adibito proprio all'uso parcheggio. Questo cosa ha comportato? Innanzitutto, da parte dei nuovi commercianti, un calo di fatturato, naturalmente, perché manca il passaggio e quindi c'è proprio una desertificazione di Corso Valentini. E' anche una lamentela da parte di tutti gli abitanti, dal momento in cui si trova in una posizione scomoda, e soprattutto perché anche nei paesi limitrofi, gente che arriva con i mezzi, i propri mezzi, non hanno possibilità più di parcheggiare. Questo ha comportato anche da parte degli ambulanti una riduzione di circa un 40%, quindi un 40% degli ambulanti ad oggi non sono più presenti a Montorio. E allora voi avete deciso di fare una protesta eclatante? Sì, abbiamo deciso, almeno con i mezzi e le armi legali, diciamo lecite che abbiamo, a disposizione di chiudere domani e manifestare questo dissenso da parte di tutti. Ma perché il Comune non riporta questo mercato tradizionale in centro storico? Secondo alcune dichiarazioni da parte di un delegato al commercio consigliere comunale, è stato comunque detto che il Corso Valentini presenta zone rosse, cioè proprio zone inagibili. La cosa è un po' incongruente nel senso che gli esercizi commerciali lungo Corso Valentini sono quotidianamente aperti, non solo, ma ci sono anche manifestazioni, eventi, caccia al tesoro da parte di ragazzini, per cui suona un po' male queste dichiarazioni.